Spesso, quando abbiamo a che fare con un testo, abbiamo l'esigenza di eseguire la stessa operazione in più parti del testo. Visto che i computer sono fatti apposta per automatizzare operazioni ripetitive, in questo video andiamo a vedere tre funzionalità di Vim che ci aiutano in questa automazione, ed inizierai ad apprezzare la potenza di Vim e capirai perché la modalità di default di Vim è il normal mode e non l'insert mode come negli altri editor. Prima di continuare, ti ricordo che io faccio il video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Siamo già con il nostro bel Vim.tiny e stiamo già mostrando i numeri di linea, giusto per non perderci. Torniamo a parlare di movimenti. Prima di qualsiasi movimento, io posso scrivere un numero e quel numero dice a Vim quante volte ripetere quel movimento. Per esempio, se scrivo 13j, sposto il cursore giù di 13 linee rispetto alla linea corrente. Oppure, se scrivo 3f e 2 punti, sposto il cursore al terzo carattere di 2 punti dopo la posizione corrente del cursore. La cosa bella è che puoi mettere un numero prima di qualsiasi movimento che abbiamo visto qualche video fa. Già, ma qualche video fa avevo anche accennato ad un'eccezione. E ora capisci perché è un'eccezione. Se ti ricordi la lettera G maiuscola, ti porta a fine file e fin qui tutto bene. Ma abbiamo anche visto che se la G maiuscola è preceduta da un numero, per esempio 141g, ti porta al numero di linea desiderato anziché andare alla fine per 141 volte. Per quanto io ne sappia, questa è l'unica eccezione dove il numero che precede il movimento non indica quante volte ripetere il movimento. Il movimento preceduto da un numero è utilizzabile anche per tutti quei comandi che richiedono un movimento. Per esempio, se voglio cancellare fino alla seconda parentesi aperta non compresa, scrivo delete 2 till parentesi aperta. Ovviamente anche i comandi yank e change accettano il movimento preceduto da un numero, ma non sto qui a mostraterli che tanto ormai hai capito come funziona. La cosa veramente bella è che non sono solo i movimenti a poter essere preceduti da un numero, ma una qualsiasi operazione del normal mode può essere preceduto da un numero per indicare quante volte ripetere l'operazione. Per esempio, voglio cancellare 5 linee di testo? Basta scrivere 5 delete e delete. Voglio aprire 5 linee di testo vuote prima del cursore? Basta scrivere 5 open, poi esco per tornare in normal mode, perché ti ricordo che il comando open mi porta in insert mode. Già, ma come si comportano i comandi che mi portano in insert mode in relazione con il numero di ripetizioni? Proviamo la cosa più semplice, il comando insert. Mi sposto in una linea a vuoto, giusto per farti vedere le transazioni tra insert mode e testo esistente. Dicevamo, proviamo a scrivere 3 insert e con molta fantasia scriviamo ciao. Notiamo subito che finché siamo in insert mode non ci sono anomalie. Quello che scriviamo compare nel testo una volta sola. Ma appena premiamo ESC per tornare in normal mode, ecco che tutto quello che abbiamo scritto in insert mode viene ripetuto per 3 volte. Questo ci insegna che Vim considera un comando che ti porta in insert mode concluso nel momento in cui torni in normal mode. E questo ci sarà utile a breve. Ovviamente quanto visto per il comando insert vale anche per i comandi append e open. Non vale invece per il comando change. Nel senso che scrivere il numero prima del comando oppure scrivere il numero prima del movimento danno lo stesso risultato. Per esempio, spostiamoci ad inizio linea giusto per avere le cose più pulite. Poi, se faccio 3 change till 2 punti e con molta fantasia scrivo ciao, quando torno in normal mode non mi ritrovo il testo inserito ripetuto per 3 volte. Anzi, se hai notato prima di andare in insert mode ha cancellato fino al terzo carattere di 2 punti non compreso. Quindi il comando 3 change till 2 punti è identico al comando change 3 till 2 punti. Molto bene. Abbiamo visto come ripetere operazioni consecutive. Il problema è che il più delle volte devi sì ripetere la stessa operazione, ma in zone non consecutive del testo. Mi sposto solo sulla letter N per rendere più chiaro ciò che sto per fare. Diciamo che voglio dare il comando change till parentesi aperta e con molta fantasia scrivo sempre ciao. Come abbiamo visto poc'anzi, Vim considera un comando che ti porta in insert mode concluso nel momento in cui esci dall'insert mode. Questo significa che ora Vim sa che l'ultima operazione effettuata sul testo è un'operazione di change fino alla prossima parentesi aperta non compresa ed il testo dal cursore fino alla prossima parentesi aperta non compresa è stato cambiato con ciao. Molto bene. Ora ti mostro il comando a mio avviso più utile di tutto Vim. Se c'è una sola cosa che vuoi portare a casa da questo video è il tasto punto. Il tasto punto ripete l'ultima operazione effettuata sul testo alla posizione attuale del cursore. Per capire meglio come funziona è meglio fare un esempio. Se sposto il cursore giù di una linea, poco dopo il carattere di underscore e poi premo punto, ecco che ha cambiato dalla posizione attuale del cursore fino alla prossima parentesi aperta non compresa il testo con la parola ciao. Guarda, lo faccio ancora. Vado giù di tre linee fino alla prossima lettera S e poi premo di nuovo punto. Ovviamente il punto non ripete solamente l'operazione change, ma ripete qualsiasi operazione che modifiche il testo in qualche maniera in normal mode. Quindi insert, open, append, delete, chi più ne ha più ne metta. Quindi il comando punto è utilissimo se ho un'operazione da fare sul testo e voglio ripeterla in punti differenti. A volte però non ho solamente un'unica operazione da ripetere, ma ho la necessità di trasformare il testo applicando più operazioni. Ed ecco che in questo caso ci vengono in soccorso le macro. Ora, molti al solo udire la parola macro si spaventano perché pensano chissà quale complessità, ma in realtà in Veeam le macro sono molto semplici. Prima di parlare di macro spostiamoci alle linee a 240 giusto per avere un testo un po' più complesso. Poi, per avere un effetto più teatrale, copiamo tre linee facendo 3 yank yank e incolliamo queste tre linee 5 volte facendo 5 put. Bene, ora vediamo come si registra una macro. Per iniziare a registrare una macro il tasto è Q. Mi dispiace, non conosco nessuna mnemonica che lega la lettera Q con la registrazione di macro. Il tasto Q va seguito da una lettera che indica il registro dove vogliamo registrare la macro. Ora, non abbiamo ancora parlato di registrare, ma per il momento diciamo che stiamo dando un nome a questa macro con una lettera tra l'A e la Z. Io per convenzione parto dalla lettera A, quindi premiamo il tasto A. Vedi in fondo allo schermo che lo status dice Recording-A, per ricordarti che stai registrando una macro chiamata A. A questo punto, tutti i tasti che premi vengono memorizzati nel registro A. Io faccio iniziare sempre una macro col comando 0, per garantire che la posizione orizzontale dal cursore è a iniziolinee, ed è ben nota. A questo punto, facciamo finta che vogliamo mettere tra virgolette tutto ciò che dà la parola successiva al carattere di uguale fino al punto e virgola non compreso. Quindi, spostiamoci sul tasto uguale con Find uguale. Poi Word per la parola successiva. Insert virgolette, poi Esc per tornare in normal mode. Till punto e virgola per spostarmi appena prima del punto e virgola. Append virgolette, poi Esc per tornare in normal mode. Ok, ora facciamo finta che vogliamo mettere la parola Ciao all'interno delle parentesi più a sinistra. Quindi, riposizioniamoci inizialinea con lo 0. Poi, Find parentesi aperta. Append Ciao, poi Esc per tornare in normal mode. Ok, ricapitolando, abbiamo messo tre virgolette tra la parola successiva al carattere di uguale fino al punto e virgola non compreso, ed abbiamo messo Ciao tra le parentesi più a sinistra. Io poi finisco sempre le macro col tasto J per posizionarmi alla linea successiva. Per terminare la registrazione della macro, premi nuovamente il tasto Q. Nota che la macro registra tutti i tasti premuti dalla tastiera, indipendentemente dalla modalità in cui fai andare Vim. Quindi è possibile andare in Insert mode, Command mode e Visual mode senza problemi durante la registrazione di una macro. Ok, abbiamo registrato una macro chiamata A. Ora vediamo come si esegue una macro. Per eseguire una macro, premi il tasto chiocciola seguito da registro corrispondente alla macro da eseguire. Quindi nel nostro caso, premiamo chiocciola A. E boom! Ecco che immediatamente abbiamo portato tutte le modifiche anche a questa linea. Nota come, avendo iniziato la macro col comando 0, possiamo dare il comando chiocciola A indipendentemente dalla posizione orizzontale del cursore. Ed avendo finito la macro col comando J, siamo già pronti sulla linea successiva nel caso volessimo eseguire la macro anche su questa linea. Ma aspetta, c'è di più! Anche l'esecuzione di una macro può essere preceduta dal numero di volte per cui ripetere questa macro. Quindi se voglio ripetere questa macro per 5 volte, basta scrivere 5 chiocciola A. Ora mi piacerebbe eseguire la macro per tutte le prossime linee che avevo incollato in precedenza. Il problema è che ho perso il conto e non so che numero dare prima del comando chiocciola A. Ma la cosa bella è che le macro sono anche abbastanza intelligenti da fermarsi quando uno dei comandi presenti all'interno della macro fallisce. E questo ci permette di dare numeri enormi prima dell'esecuzione della macro senza paura che le troppe ripetizioni danneggino parti del testo che non vogliamo. Per esempio, se vedo il comando 999 chiocciola A, vedi che l'esecuzione della macro si è fermata a linea 258, perché in quella linea manca il carattere punte virgola. Quindi il comando til punte virgola che avevamo dato all'interno della macro fallisce. Ed ecco che l'esecuzione della macro si è fermata. Ricapitolando Puoi precedere qualsiasi movimento o comando in normal mode da un numero per ripeterlo quel numero di volte. Il tasto punto ti permette di ripetere l'ultima operazione sul tasto dato in normal mode. Per iniziare a registrare una macro premi il tasto Q seguito da una lettera e per terminare la registrazione di una macro premi nuovamente il tasto Q. Per eseguire una macro premi il tasto chiocciola seguito dalla lettera che hai assegnato a quella macro e puoi precedere l'esecuzione della macro dal numero di volte che vuoi eseguirla e puoi esagerare tranquillamente con quel numero. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao!